ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo ad analizzare un progetto altcoin che viene chiamato internet computer listato da poco nei maggiori exchange anche se ha visto la luce attorno alla fine del 2014 prima del 2015 andiamo a vedere assieme che cosa vuole risolvere quale problematiche sta cercando di attenuare ai giorni nostri ovviamente dopo la sigla partiamo da coin market cap per analizzare il prezzo di icp internet computer attualmente questo progetto neonato è una coin che si trova al rank numero 9 per capitalizzazione di mercato con una voce lista di 73 mila 112 persone sui coin market cap che hanno inserito tra i preferiti attualmente ha un valore di 236 euro con un'oscillazione negativa del mercato di 12,05 per cento un rifornimento circolante di 124 milioni di coin con rifornimento massimo di circolazione di 470 milioni di coin e listata sui migliori exchange partiamo da bainers wabi global eco in base pro come sempre per non incappare in siti scam da cui market cap se clicchiamo sul sito ufficiale del token della cripto valuta che stiamo analizzando ci partirà sulla fonte ufficiale ora siamo su definiti punto org e the internet computer e andiamo ad analizzare questo progetto questo progetto anche se è stato listato in questi giorni è un progetto che ha iniziato la sua maturazione attorno al fine 2014 primi del 2015 quindi non è proprio un progetto neonato il loro ecosistema di sviluppo lavorativo conta quasi 200 utenti 200 sviluppatori ingegneri marketer e via dicendo provenienti da tutto il mondo questo progetto è tanto tecnologico quanto politico ed economico il suo fondatore seo si chiama dominic william che un teorico e studioso del mondo cripto programmatore inventore di tante novità nello spazio del settore delle cripto valute all'interno di questo progetto vediamo icp che la loro valuta e poi abbiamo definiti che la fondazione no profit per la ricerca scientifica che ha come base operativa la svizzera è un progetto che mira a superare la centralizzazione che abbiamo oggi per quanto riguarda internet tramite una block chain che può lavorare ad altissima velocità per il web internet computer sarà il risultato finale una sorta di mega struttura distribuita tra diversi data center e senza alcuna possibilità di centralizzazione il progetto della decentralizzazione di internet è un progetto ambizioso e all'avanguardia se pensiamo che solo oggi internet è in mano a poche grandissima azienda voi facebook google twitter amazon alibaba quindi con questa internet decentralizzata su dei data center completamente decentralizzati e operanti su block chain quindi l'altissima velocità internet computer mira a riconsegnare internet in mano agli utenti in mano agli operatori piuttosto che dalla incessione a delle grandi aziende che la governano definiti non mira essere un competitor contro bitcoin e tirium o qualsiasi alti cripto valuta ma mira essere un progetto a sé stante che può coinvolgere anche tutte le block chain esistenti compresa appunto la blog centi e tiro la brocene di bitcoin e tutte le nuove chain che staranno per uscire attualmente internet gira sul protocollo ip e definiti sta cercando di creare un nuovo protocollo che si chiamerà e si chiama icp icp sta a significare internet computer protocollo icp è anche il nome della loro cripto valuta la loro cripto valuta che innanzitutto ha dei compiti di governance quindi bloccandoli nel loro network si avrà accesso ai cosiddetti neurones che abilitano il voto di governa sulla piattaforma con i relativi vantaggi di carattere economico per la reward il secondo metodo di utilizzo di icp della loro valuta è per e come metodo di pagamento per pagare le fi e i data center per utilizzare i loro protocolli per installazioni per la creazione di app fruire dei servizi completi di internet computer tutto tutto l'ecosistema si baserà economicamente sul lo sulla loro cripto valuta icp quindi anche la loro valuta ben inserita all'interno del loro progetto come detto poco fa bloccando la cripto valuta all'interno dei cosiddetti neurones si avrà la possibilità di voto di governance ed avere una sorta di reward per la validazione dei nodi questo protocollo neuron è al centro anche di internet computer neuron è il software autonomo che governa l'intera blockchain di internet computer un'altra cosa importante che questo ecosistema neuros ha una chiave pubblica che in grado di convalidare come abbiamo visto prima tutte le transazioni all'interno di questa blog chain progetto è senza dubbio ambizioso con dei vantaggi una il principale vantaggio è che cerca di risolvere dei problemi che esistono davvero e sono già presenti nella vita di tutti i giorni come la centralizzazione del network hanno una tecnologia all'avanguardia gli smart contract sono quasi sostituiti dai canister che sono un upgrade degli smart contract stessi la migliaia dei canisters rispetto agli smart contract è che sono infinitamente scalabili possono essere fatti girare in parallelo e mantengono le caratteristiche tipiche dei contratti intelligenti come impossibilità di modifica e l'esecuzione autonoma che non può essere interrotta da terza parte ma ma soltanto dalle regole inserite nel contratto stesso sostanzialmente per una visione di acquisto e detenzione nel medio lungo periodo potete tenere monitorato questo progetto analizzatene anche voi i fondamentali analizzate lo ip per l'ecosistema e tutto quello che avete appena sentito in questo video prima di prendere le vostre decisioni siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consente appuntamento spero che il video sia stato di vostro gradimento e lo abbiate trovato utile mi raccomando per supportare il mio lavoro iscrivetevi al canale lasciatemi un like se avete piacere unitevi alla nostra community telegram noi ci vediamo domani con un altro video ciao a tutti e buon weekend